La punizione e l'ultimo naufragio La punizione e l'ultimo naufragio è un brano tratto dal dodicesimo libro dell'Odissea. Siamo praticamente alla fine della narrazione delle avventure di Ulisse. Ma voi dovete comunque sapere tutto quello che è successo a Ulisse, non solo appunto questa fine, ma anche le cose che ci sono in precedenza. Ora, questo è il dipinto che abbiamo scelto come sfondo di questa presentazione. Ulisse inganna Polifemo. È chiaro che fra tutte le avventure che Ulisse racconta al re dei Feaci, a sua moglie e sua figlia Nausicaa, sicuramente quella di Polifemo era più famosa. E poi anche perché era un'immagine di una nave. Appunto come vedremo, oggi leggeremo un testo in cui la nave sarà protagonista. È il naufragio che avverrà appunto quando ormai Ulisse è in vista di Itaca. Ecco, questo è un altro dipinto famoso, un affresco Giulio Romano, quello che ha affrescato Palazzo Tè. Non so se avete visto Palazzo Tè a Mantua, è bellissimo da vedere. Ecco, esatto, esatto. E questa è una di quelle immagini. Questo è un altro pittore che ha dipinto la famosa scena di Polifemo. Come abbiamo spiegato, l'avventura di Polifemo è la dimostrazione che esistono dei popoli civili e esistono dei popoli incivili. Ciò che caratterizzava la civiltà per i greci era l'ospitalità. E mentre i feaci sono civili, quindi sono ospitali, come Alcino, come la moglie Arete e la figlia Nausicaa, invece i ciclopi si dimostrano incivili, proprio per la loro inospitalità. Altri dipinti, vedete che... Ah, qui per esempio un'illustrazione che mostra proprio il momento focale dell'avventura di Ulisse nella grotta di Polifemo. C'è il momento in cui lui riesce ad ingannare il ciclope facendogli bere il vino che gli era stato dato da Ismaro, era un sacerdote della Traccia. Ecco, sì, vi ricordate che l'abbiamo studiata questa cosa, no? Cioè abbiamo studiato che i Cicon, insomma, questa popolazione della Traccia, aveva attaccato Ulisse e i suoi compagni. E quindi poi il sacerdote Ismaro era stato l'unico ad essere risparmiato e per ringraziare, insomma, Ulisse di questo privilegio gli aveva regalato questo vino. Un vino, vi ricordate che avevamo letto, che non poteva essere bevuto puro, e invece Polifemo lo beve puro e quindi si ubriaca in un certo senso, perde i sensi, e per questo motivo poi sarà accecato, come ben sappiamo. Proseguendo nei suoi viaggi, Ulisse capita sull'isola di Eolo, dove si trova Eolo che è il re dei venti. Attenzione, nell'Odissea è re dei venti, non è dio dei venti. Da un otre a Ulisse e i suoi compagni, dicendo che questo otre racchiude tutti quanti i venti, per cui fino a quando questo otre sarà chiuso, ecco, loro devono semplicemente navigare verso Itaca senza aprire questo otre. Solo che i compagni di Ulisse pensano che questo otre racchiuda dei tesori straordinari e quindi lo prendono, lo aprono, e in questo modo si scatena una tempesta tremenda, per cui loro sono ricacciati indietro, proprio addirittura sulla stessa isola di Eolo. Dopo aver incontrato Eolo, incontra anche la Maga Circe e rimane con la Maga Circe per un anno. È il famoso episodio in cui, vi ricordate, la Maga trasforma i compagni di Ulisse in maiali. Poi però Ulisse, grazie anche all'aiuto di Hermes e dell'Erba Moli, che è una specie di antidoto, riesce a non farsi turlupinare, insomma, ingannare dalla Maga Circe, anzi poi la Maga chiede a lui di rimanere, dicevamo, per un anno, e per un anno rimarrà effettivamente lì nel suo territorio. Dopodiché proprio la stessa Maga Circe suggerisce a Ulisse di andare a consultare Tiresia, che è un profeta, che è morto, e quindi si può andarlo a trovare solamente nel regno dei morti. Quindi, dopo un rito abbastanza complicato, effettivamente Ulisse riesce a comunicare con lui, ma non solo con lui. Infatti incontrerà tante altre anime di morti, come l'anima di Agamennone, che racconterà ancora una volta la vicenda di come è stato ucciso dall'amante della moglie. Poi incontrerà la sua madre, purtroppo la madre di Ulisse è morta di dolore, perché non ha avuto la pazienza di aspettare che il suo figlio ritornasse in patria. E tantissimi altri eroi. Dopodiché riprenderà la navigazione e passerà attraverso gli scogli dove c'erano le sirene. Questo è un altro episodio sicuramente molto conosciuto, perché lui si fa legare, perché vuole ascoltare questo canto delle sirene, perché è curioso, mentre tutti gli altri suoi compagni hanno dei tappi di cera, le orecchie, e lui dice loro, proseguite, qualsiasi cosa io faccia, voi continuate, proseguite. Infatti cerca di scorrò per lì. Infatti poi, quando sente il canto delle sirene, prega loro di fermarsi in tutti i modi, ma loro hanno detto, tu ci avevi detto di non fermarci, quindi proseguono e quindi riescono a superare anche questo pericolo, insomma, delle sirene, ma subito dopo se ne presenta un altro, che è quello di Scilla e Cariddi. Comunque, anche questo ultimo pericolo sarà superato, però nel corso di tutte queste avventure, Ulissi ha perso tantissimi suoi compagni. Era partito con tante navi, ne è rimasta una sola, una sola nave. Ora, era stato detto proprio da Tiresia a Ulisse che sarebbero arrivati nella terra del Dio Sole e loro avrebbero dovuto lasciare intatte le vacche, cioè le mucche, insomma, del Dio Sole. Insomma, non dovevano cibarsi di queste mucche del Dio Sole. Quando arrivano lì, ancora una volta, i compagni non obbediscono agli ordini e uccidono queste mucche, se ne cibano, e questo fa indignare il Dio Sole, il Dio Sole e Iperione. Questa illustrazione ci mostra proprio l'ampezia che riferisce ad Elios, che è il Dio Sole, il Dio Iperione, il sacrilegio dei compagni di Ulisse, che si sono cibati delle carni dei buoi sacri. Ecco, se la prende Iperione proprio con Zeus in persona. E quindi questa volta è Zeus in persona, non Poseidone, che sappiamo essere il Dio ostile a Ulisse, ma è Zeus in persona che decide di intervenire e infatti promette di scagliare un fulmine sulla nave e di distruggerla. E come vedremo adesso, infatti, moriranno tutti quanti i compagni di Ulisse, solo lui riuscirà a sopravvivere e andrà a ricoverarsi sull'isola di Calipso, l'isola di Ogigia, dove rimarrà per tantissimi anni. Siamo arrivati al punto in cui si trova il brano di pagina 330 che dobbiamo parafrasare oggi. Quando lasciamo quell'isola, è l'isola, dicevamo, del Dio Sole, no? Dove c'erano queste vacche sacre al Dio Sole. E ormai non si vedeva altra terra, ma il cielo e il mare soltanto. Ecco, il cronide rizzò su una nave bencava una nuvola scura. Come abbiamo detto, Zeus definito così il cronide patronimico, perché Zeus è figlio di Crono. Ecco, come abbiamo detto, scaglia un fulmine, una perturbazione tremenda, oscura, il cielo si è oscurato, perché Zeus è il Dio delle perturbazioni, dei fulmini, dei tuoni, eccetera. Di sotto il mare incupì, quindi tutto il mare si oscurò a causa di questa nuvola che incombeva. Non corse ancora per molto. D'un tratto arrivò rulante lo zefiro. Arrivò veloce un vento, impazzando con grande tempesta. Non è lo zefiro primaverile, dolce, no? Questa volta si tratta di un vento scatenato al massimo della violenza. E la furia del vento spezzò entrambi gli stralli dell'albero. Gli stralli sono i cavi che sostengono gli alberi verso prua, cioè verso la parte anteriore della barca, della nave. L'albero cadde all'indietro, rovesciando tutte le sartie. Sono altri cavi che sostengono la nave a lato, oppure verso la poppa, quindi verso la parte di dietro insomma della nave. E le vele nella sentina. La sentina è il fondo, è la parte bassa della nave che raccoglie spesso l'acqua e anche altri liquidi di scolo della nave. E quindi tipicamente la sentina è una parte un po' meno igienica insomma della nave, dove insomma spesso ci sono odori, è maleodorante, diciamo così. Sulla nave a poppa percossa in testa il pilota. Il timoniere infatti si trovava nella parte posteriore della nave. Fu colpito, questo timoniere, ed un colpo gli ruppe tutte le ossa del cranio. Morì quindi, proprio mentre stava facendo il suo lavoro, insomma, di guidare la nave. Simile a un tuffatore, egli cadde dal ponte, l'animo altero lasciò le sue ossa. Questo episodio che stiamo leggendo dell'Odissea probabilmente ha ispirato l'Eneide di Virgilio. Infatti l'anno prossimo vedremo proprio nel corso di uno dei viaggi di Enea il timoniere che verrà così colpito e cadrà in mare morto, si può dire. Anche se poi vedremo morirà in seguito. Paninuro. L'animo altero lasciò le sue ossa. Lui, come tutti i suoi compagni, si è dimostrato superbo, si è dimostrato orgoglioso, prepotente, non ha seguito comunque le indicazioni, ha trasgredito. Abbiamo detto per esempio che si sono cibati delle vacche sacre del Dio Sole, tutti quanti i compagni. E quindi giustamente adesso, nell'ottica ovviamente di Omero, sono puniti dagli dèi. Zeus a un tempo tuonò e scagliò sulla nave un fulmine. Quindi, sapete, quando il fulmine segue immediatamente il tuono, vuol dire che è ancora più violento. Colpita dal fulmine di Zeus, essa ruotò interamente e sempì di vapori sul furei. La nave a questo punto si riempie di vapori che sanno di zolfo. Tra l'altro, questo elemento è spesso associato per gli antichi all'inferno, quindi presagio di morte per questi compagni di Ulisse. Infatti, i compagni caddero in acqua, i compagni annegarono, ed essi, come corvi di mare, intorno alla nera nave erano portati dai flutti. Sono paragonati, i compagni di Ulisse, a dei corvi di mare trascinati, trasportati, stanno per essere, stanno per morire tutti quanti. Il Dio gli torse il ritorno, vuol dire quindi che non permise loro di tornare ad Itaca. Erano in prossimità dell'isola di Itaca ma non ci arrivarono mai. Io mi aggiravo dentro la nave. Ricordate che questa è l'ultima parte del racconto che fa Ulisse al re dei Feaci. Io mi aggiravo dentro, è rimasto dentro la nave. Ed ecco, un maroso dalla chiglia staccò le murate. Cioè, la chiglia è proprio la trave che fa da spina dorsale della nave, che si trova quindi nel fondo della nave. Staccò le murate, un maroso, quindi un'onda di una violenza straordinaria, riuscì a staccare i fianchi della nave. In particolar modo le murate sono quella parte dei fianchi della nave che emerge dall'acqua. Quindi, praticamente, la nave si ruppe in due, si può dire. E' questo quello che ci sta raccontando. Nuda la portavano i flutti. A questo punto la nave sembra diventata quasi una zattera perché ha perso i fianchi, le murate di cui stavamo dicendo. Non ha più i fianchi perché quell'onda tremenda aveva distrutto i fianchi della nave. Poi sbatte l'albero contro la chiglia e quindi la violenza della tempesta giunge al suo culmine. Era gettato su di esso uno strallo fatto di pelle di bue. Come abbiamo già spiegato prima, gli stralli sono praticamente delle corde, le corde che si usavano per legare l'albero alla prua della nave. Insomma, prende quello che riesce a prendere Ulisse, lega e con esso ambedue la chiglia con l'albero e seduto su di essi ero spinto dai venti funesti per cercare in qualche modo di costruire un'imbarcazione di fortuna, chiamiamola così. dimostra già qui quelle doti di artigiano della cantiristica navale, se vogliamo, che poi dimostrerà anche quando si costruirà un'imbarcazione, una zattera più o meno, che gli permetterà di andare dall'isola di Ogigia fino all'isola dei Feaci, appunto, come già sappiamo del resto. Legai con esso ambedue la chiglia con l'albero e seduto su di essi ero spinto dai venti funesti. Ovviamente in questa imbarcazione chiamiamola così di fortuna non c'è il timone. Quando lo Zefiro smise di impazzare a tempesta, abbiamo visto che il vento che questa volta è proprio principale responsabile della tempesta che investe la nave di Ulisse, venne rapido il noto che è un altro vento insomma, a portare nel mio animo l'ansia di dover traversare di nuovo la funesta Cariddi. Cioè, praticamente, questo vento trasporta la nave o quanto è rimasto meglio della nave di Ulisse verso la funesta Cariddi. Ecco, dobbiamo dire una cosa, si parla prima esplicitamente di Trinacria relativamente a quest'isola del sole quindi l'isola del sole sarebbe la Sicilia pertanto i greci a dire la verità vanno incontro alla tempesta proprio presso le coste dell'isola della Trinacria quindi della Sicilia e pertanto possiamo pensare a questo luogo insomma dove si si compie questo dramma un po' a sud sud-est della Sicilia e quindi poi la nave di Ulisse che risale verso lo stretto di Messina fu il suo spinto per tutta la notte il sole per quanto ovviamente i riferimenti geografici dell'Odissea sono sempre opinabili fu il suo spinto per tutta la notte il sole sorgeva quando giunsi allo scoglio di Scilla e all'orrenda Cariddi quindi per una notte intera sballottato verso lo stretto di Messina diciamo e quindi a ritrovare nuovamente quei due mostri orrendi che rappresentano i pericoli che i marinai incontrano quando si avvicinano a quello stretto costei risucchiò l'acqua salsa del mare ben già detto già visto che Cariddi è una specie di vortice che quindi risucchia l'acqua salata del mare ma io sollevatomi in alto al gran fico adesso aggrappato miressi come una nottola ecco un'altra similitudine abbiamo visto prima la similitudine del timoniere come un tuffatore dei compagni di Ulisse come uccelli marini che si fanno trasportare dalla corrente adesso vediamo Ulisse aggrappato ai rami del fico come un pipistrello la nottola è un pipistrello che vive nelle foreste che cerca disperatamente di salvarsi non avevo non avevo dove puntare i piedi saldamente o salire stavano le radici lontano ed erano in alto i rami lunghi e grandi e coprivano ad ombra Cariddi mi resti senza mollare finché vomitò nuovamente albero e ciglia quindi si aggrappa disperatamente a questo legno il fico il legno di fico e sperando di non essere inghiottito da Cariddi che effettivamente poi vomita nuovamente albero e ciglia nel senso che il mostro evidentemente non ha gradito come cibo ecco a queste parti della nave li aspettavo e arrivarono al fine allorché dalla piazza va a cena un uomo che di rimele molteplici dispute ed uomini in lite a quell'ora spuntarono da Cariddi quei legni io aspettavo che che sputasse fuori questi questi legni e quindi più o meno verso tramonto nell'ora in cui dalla piazza va a cena un uomo quindi l'uomo si dirige a casa per per il pasto insomma che di rimele moltiplici dispute ed uomini in lite a cena che può placare le liti o le controversie fra gli uomini ebbene proprio a quell'ora spuntarono da Cariddi quei legni cioè l'albero e la chiglia di cui abbiamo parlato prima lasciai mani e piedi dall'alto con un tonfo in acqua piombai accanto ai lunghissimi legni e su di essi sedendomi mi misi con le mani a remare ecco adesso davvero li rimangono solamente questi legni appunto abbiamo detto l'albero la chiglia sui quali lui cerca disperatamente di salvarsi remando con le mani perché non aveva più neanche i remi il padre di uomini e dei non lasciò che Scilla vedesse non sarei altrimenti sfuggito alla ripida morte vuol dire quindi che è vero che è stato Zeus l'autore di questa tempesta abbiamo detto rispondendo alla lamentela del sole Elio Iperione però non vuole il destino non è che Ulisse debba morire lì in quel frangente e quindi non vuole che Scilla veda perché se Scilla avesse visto quell'uomo l'avrebbe divorato perché sappiamo appunto che Scilla è un mostro tremendo che divora così come ha divorato anche alcuni compagni di Ulisse potrebbe adesso divorare Ulisse se lo vedesse ma non vuole Zeus non permette che Scilla lo veda altrimenti lui non sarebbe sfuggito alla ripida morte ad una morte improvvisa rapida e veloce per nove giorni fui trascinato alla decima notte gli dèi mi gettarono sull'isola Ogigia quindi lasciandosi trasportare e cercando comunque disperatamente di remare con le mani abbiamo detto per nove giorni naviga in questo modo così un po' approssimativo e gli dèi poi quindi il destino insomma vuole che lui approdisi sull'isola di Ogigia sull'isola Ogigia dove abita Calipso da riccio ribelli la ninfa dèa tremenda con voce umana che m'accolse e nutri ma perché lo racconto te l'ho già detto te l'ho detto in casa già ieri a te e alla nobile sposa mi è odioso narrare di nuovo cose dette diffusamente quando era stato accolto appena accolto da Alcino e da Arete lui aveva raccontato che stava arrivando dall'isola Ogigia quindi dall'isola di Calipso quindi è inutile che adesso si metta nuovamente a raccontarlo mi è odioso narrare di nuovo cose dette diffusamente e termina così appunto la narrazione delle avventure di Ulisse vedete che ci sono le virgolette che si chiudono si chiude quindi qua alla fine del dodicesimo libro quel racconto che come abbiamo visto copre tantissimi libri dal nono nono decimo undicesimo dodicesimo quindi quattro libri interi per raccontare per chiudere il cerchio diciamo così cioè per raccontare tutto quello che gli è capitato fino a quando è arrivato sull'isola Ogigia poi da lì in poi come abbiamo visto l'Odissea ha già raccontato insomma ci ha già fatto leggere che cosa è avvenuto a Ulisse ecco quindi la punizione e l'ultimo naufragio come testo esemplare di quella che è all'interno dell'orizzonte ideologico omerico è la necessità di sottostare le leggi degli dei altrimenti gli dei si scatenano e quindi ricordate quell'aggettivo fondamentale che era riferito al timoniere il timoniere infatti era altero l'animo altero verso 414 e con lui tutti quanti gli altri compagni quindi giustamente sono morti in quest'ultima tempesta e Ulisse a questo punto è rimasto da solo e da solo come ben sappiamo ritornerà ad Itaca perché poi come vedremo chiederà insomma ai feaci di preparargli una nave ed effettivamente questo faranno i feaci e con questa nave lui sbarcherà ad Itaca e Nausicaa se ne deve fare una ragione perché si è innamorata di Ulisse ma non è questo il suo destino è troppo giovane oltretutto questa ragazza e comunque siamo arrivati ormai alla fine di questi dieci anni di avventure ed è il momento che Ulisse riveda sua moglie altri video didattici su a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it